Nuovo servizio per il pagamento elettronico delle tasse di concessione regionale e dell'esame per l'abilitazione venatoria PagoPA. A partire dal 15 luglio 2019 i pagamenti delle tasse di concessione per l'attività venatoria e per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio possono essere eseguiti online tramite il sistema PagoPA, un'iniziativa realizzata dall'Agenzia per l'Italia digitale a cui Regione Lombardia ha aderito per assicurare ai cittadini e aziende strumenti per il pagamento elettronico con standard sempre più elevati in termini di trasparenza, semplicità e sicurezza. Ci troviamo con la Federcaccia di Brescia con il Presidente Provinciale Marco Bruni a commentare questa decisione dalla Regione Lombardia. Regione Lombardia ha aderito a questa convenzione per il pagamento online di tutto quello che le compete dal bollo dell'auto alle tasse concessione, a rette, eccetera. Di per sé sarebbe un passo avanti anche per il mondo venatorio poter scegliere di poter pagare non soltanto facendo la coda in posta ma andando dal tabaccaio, facendo il versamento online dal proprio divano di casa con il cellulare, il tablet o il computer oppure andando per chi invece volesse andare direttamente in banco in posta. La questione però è come avviene per il bollo dell'auto che ad ogni cittadino viene mandato a casa un avviso e pagamento con all'interno un codice, con quel codice uno va dal tabaccaio e paga il proprio bollo. In questo caso a noi non verrebbe mandato un codice e quindi per poter fare il pagamento dovremmo noi registrarci all'interno di questo software della Regione Lombardia, generare il codice per noi con quello poi dopo effettuare il pagamento. È evidente che per una persona che ha non tanto una certa età, perché non stiamo parlando di essere più o meno intelligenti a una certa età, ma una capacità, un'affinità, una dimestichezza con i mezzi tecnologici, anche se conosco persone di una certa età che sono molto più bravi di me con mezzi tecnologici, è evidente che si crea un problema. Questo problema, ripeto, va affrontato. Però rispetto al presidente dell'ACL che ha lanciato delle accuse totalmente false nei confronti di Federcaccia a Brescia e Federcaccia a Lombardia, noi abbiamo cercato di approfondire il problema. Siamo andati a leggere che cosa prevede la convenzione tra l'Agenzia Italia Digitale e le poste italiane per il pagamento dei bollettini. Ci sono tutte delle premesse che non sono applicate al mondo venatorio per pagare i nostri bollettini. Quindi nel comunicato stampa che noi abbiamo fatto e che abbiamo mandato all'assessore di Regione Lombardia senza nessuna dichiarazione di guerra, perché noi non siamo guerra fondaio, non ci interessa fare le guerre, a noi interessa risolvere i problemi, invece qualcuno approva di più il metodo del contraddittorio guerra fondaio, noi diamo delle soluzioni e ovviamente cercheremo di portarle a casa. Cioè la cosa migliore secondo noi sarebbe quella che venisse lasciato il metodo attuale e i metodi diciamo così previsti dalla novità del pagamento online eccetera eccetera, anche se noi già sappiamo che tenere un conto corrente postale a un costo è la Regione, questo non lo vuole fare. Oppure, come dicevo prima, mandare magari insieme al tesserino venatorio, al cacciatore, il proprio codice per poter andare a pagare le tasse regionali o del capanno, dal tabaccaio senza nessun problema, visto che i tabaccai ci sono in tutti i paesi della provincia ebrica. Questo senza andare a offendere nessuno, senza fare dichiarazioni di guerra, perché se non sono capaci di leggere le convenzioni tra agenzie il problema non è di federcaccia a Lombardia. Noi non cerchiamo le complicazioni perché abbiamo una sede, abbiamo indipendenti, cerchiamo di dare i servizi ai soci, non ci serve creare altri problemi perché così siccome abbiamo indipendenti riusciamo a risolvere i problemi dei nostri associati. Noi facciamo la nostra politica. Il signor Carlo Bravo pensi alla politica della sua associazione, pensi agli equilibri all'interno della sua associazione, pensi a fare quello che deve fare lui, che quello che deve fare Federcaccia sono problemi di Federcaccia.